Giappogamer Rubrica retro gaming Eccolo qua Pixel David and the broken cartridge Che cos'è? E' un videogioco insomma dal gusto Retro Dalla grafica retro E dall'audio retro a chiptune Però ovviamente sviluppato Vedete nel 2019 Quindi rientra nella Fatispecie in questa occasione Come videogioco tra virgolette Retro future Cioè è una grafica Retro gaming Però con meccaniche Di gameplay odierne Allora iniziamo Slot 1 E vediamo un po' Allora siamo qui Nella mappa Nel menu principale Di questo videogioco Che dicono poi Venga ripreso Cioè abbia ripreso In realtà Megaman Che ovviamente è una pietra Miliare del gaming Giapponese Insomma Basti pensare Insomma 11 capitoli Più spin off E roba varia Insomma Allora vediamo un po' Cioè abbiamo fondamentalmente 4 mondi Questo spaziale Queste che sono tipo Delle grotte Insomma desertiche Probabilmente la città Eccola qui Sulla sinistra E la giungla O Il bosco Insomma che Può ricordare anche Oserei dire Wonderboy Ma noi Iniziamo da qui Ok Allora ecco Vedete appunto La grafica La retro gaming Mentre abbiamo questo nostro personaggio Che insomma deve Salvare la sua bella Allora ok Sinistra Destra Ma questo qua sotto Che caspita Vabbè Proffiamo Si salta Ok Questa è l'abilità Ok con X Ah no Sopra X Ok va bene Sopra X Qua ovviamente Cade Si la grafica Mi ricorda Wonderboy Cioè il primo Il primissimo Wonderboy Ok andiamo per di qua Ok Checkpoint Preso Bene Qua Quadrato Quadrato Tondo E Che caspita Ma che deve fare Con il quadrato Tondo Oppela Ok Fatto fuori Prendi questo Beccato E fatti beccare E dai Ok Fatto fuori Bene Ok Adesso Ah così A tunnel Cavolo Altro checkpoint Qua ci si può Aggrappare Con X Sopra E che caspita Ok E vabbè Ok preso Bene Ok Mentre invece LX Per giù Giù X Ok No Cazzarola Come crepare In due secondi Benetti Proprio E aggrappa Di cazzarola E aggrappa Di cazzarola Ok Bene Qua tocca Andà giù No vabbè Diretto Così Diretto Vabbè Stato ragazzi Sono Quello E questo Bello Di questi Gameplay Let's play Come mi pare a voi No Dai Che si può anche Riprovare Innumerevoli Volte Quello volevo dire Poi a seconda Ovviamente Dei Dei Video Game Game Ok Qua X Giù X Giù No Cazzarola Fortuna ci sta Fortuna ci sta Checkpoint Ok Sorte qua Abbiamo superato Va bene Ok Vai così Ma non si può andare No ma che è Ma perché non si può andare Ma che se è Buggato Non mi dire se è Buggato Eh Presumo solo qua sotto Cazzarola Vabbè Non si può proseguire Va bene Ok Però noi abbiamo Sbloccato La mappa Vabbè Allora andiamo a provare La città Va Mi sa che forse Il tutorial Finiva lì Andiamo alla città E vediamo un po' Allora ok Acqua ok Ci dobbiamo aggrappare Ai lampioni Presumo Ok Cazzarola ci ha Beccato Ok Ok E vai qua su Buono così Bene così Proseguiamo No cazzarola Fatto fuori Bene così No Ok Anzi ma questo Non si può far fuori E dai E crepa Oh Che caspita Mamma mia Ragazzi Che percorso Allora Qua su Ok 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 bene Mi sa C'erano Tre No Quattro Addirittura Vai Con la Con la Mega medicina Vai così Che cazzarola Beccati Beccati Questo Ma ci prende Ok Preso Vai Fatti sotto Oddio Si può spaccare Questo Oddio Vai L'abbiamo 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 Fatto fuori Bene così E crepa Vai così Ah cazzarola Qua siamo bloccati Siamo bloccati Cazzarola Vediamo un po' Abbiamo Tocca Andare giù Per di qua Oh Vai Checkpoint Bene Ottimo Checkpoint Bene così Ok Qua c'è il topo Ok Bene Cazzarola Ok No Porca Miseria C'ha boia Fortuna C'è il checkpoint Santo checkpoint E ci ha beccato Cazzarola Ok No Dai però Cazzarola Così Non so se C'ho Delle vite Infinite Non so Dirvi Sinceramente Però al momento E' bello Non vedere Game over E vabbè 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 Però Aio Ok Fin qua Cesemo No No Dai però Ma dai Ma non è possibile Che appena ci becca Cioè questo Torna indietro Si spaventa No Vabbè Però Vabbè Vai riproviamo Dio abbia Gloria Colui che ha Creato Il checkpoint Non so Chi sia Sinceramente Ma Dio L'abbia Gloria Allora Vediamo un po' No Vabbè 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 Dai Vediamo di sbassarlo Sto pezzo Va che sono curioso Poi io Magari Di vedere Qualche Boss fight Cosina Vabbè Vabbè Ok Si guardo così E vabbè Uno Vai E due E che caspita Adesso Dio un po' Possiamo Passare Da sopra Eccola Quello che volevo evitare Di beccare Anche i topastri Oppela Perché poi Il passaggio Sta lì su Cavolo Ok Vai Sali Vai Checkpoint Bene No Questa è la zona Quella No Alla 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 Mega man No Quelle cose che scompaiono Alla Quello più basso Sta qua Uno Due Tre Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Degli A Fa più che altro Sta lì su Ok Allora Da qua Ok Bene Ok Mamma mia Gatrick Alla Gola Spara Cioè poi Come fa Che ci sta Il coso Il muro Cioè Il nostro Non arriva Allora Vediamo un po' No Cazzarola Vediamo se riusciamo a superare Questo pezzo Maledetto Alla Mega man Che fa Bestimiare pure i santi Ok E qua Si aggrappa No Cazzarola Ok Tre E ok Siamo qua Beh Allora Poi Là sotto Ok Ok No Cavolo Poi lì a sinistra Tutta Tutta questione di memoria Ok Uno E vabbè Sono velocissimi Cavolo Ok No No Ok E vabbè Mamma Mamma Sono veloci Porca La miseria E vabbè Ok Uno Due Tre E ok Siamo qua Poi Lì sotto Lì sotto La sinistra Ok No Cazzarola E ok No Dai Mamma mia Ragazzi Non è estremamente Difficile Però Bisogna attiva Mettersi Di andare a tempo Cazzarola Eh Difficile Non facile Questo pezzo E uno L'ha beccato Cazzarola E uno L'ha beccato E cazzarola Ci ha beccato pure A noi Eh no Poi rimane Una lancetta Perde sola Cazzarola E vabbè Porca La miseria Ok E vabbè Ok 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 Fin qua Mamma mia Che pezzo Questo No dai Mi piacerebbe Superarlo Tocca Superarlo Eh vabbè Però Vediamo poi Contare Va Uno Due Eh Vabbè Ok 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 Oh È fatto fuori Maledizione Adesso è più tranquilla La questione Vediamo un po' Uno Due È lisciato Però mi sento più tranquillo Ok Ok No Ok Ok Quindi cosa afferrà qui Eh Dai di poco Di un secondo Cazzarola Ok Ok No Porca Di miseria No però si ricomincia A checkpoint Ok non è game over Buoni tutti Buoni tutti Ah però Ti sa il mostro È rimasto lì Il robottino Cazzarola Quello che Spara i missili E tocca rifarlo fuori Eh vabbè Vai così Vai così Eh vabbè Cazzarola E ok Eeeh Mannaggia Ok 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 E uno E due E tre Oh Adesso possiamo salire Super di qua Vediamo un po' Vediamo un po' Se gliela famo Ok Vai così Oh E vai di checkpoint Quello passo è giù Ok Bene così No Cavolo Siamo creepati Però ci sta checkpoint E buoni tutti Oh Crepato Bene Una bella notizia Ma si E cazzarola E ci becca E vabbè E crepa pure tu Va Va cazzarola Si crepa pure di lì Porca la miseria Ci abboglia E fatti Beccare Ok Bene Vai Vieni Vieni Anzi ho già Pogamer Si è arrivato E crepa Va Ok Mamma mia Che roba Ok Bene Bene così Ok Ok Siamo dentro Un palazzo Mamma mia Che roba Che è Dai E che caspita Beccare di questo E anche E anche tu Vai così Bene Da dove si cade Ok Ok Poi si risale Per di qua Vediamo un po' Dai Passa di là Passa Passa E Acci sua E che ca... Eeeh, vabbè Ok C'è rimasta una tacca sola, cazzarola Vai di checkpoint, vai di checkpoint Vai così, ammazza i due e due Ottimo Vai checkpoint, è bene così Oh, boss fight Finalmente sei qui, temevo che delle tartarughe ti avessero trascinato nelle fogne Mi chiamo Bill Kodak e non ti lascerò passare Non so se ve l'ho detto, ma tocca salvare la fidanzata del nostro amico Eeeh, vabbè Siamo subito crepati Vai così, boss fight E quanti te ne servono? Eeeh, vabbè Ah, te ne servono un po', eccolo lì, ok Eeeh, cazzarola E niente male, so, boss fight Vediamo un po' Lo vedremo E tacci tua Eeeh, no Porca la miseriaccia, boia Finalmente sei qui Temevo che delle tartarughe ti avessero trascinato nelle fogne Mi chiamo Bill Kodak e non ti lascerò passare Lo vedremo, ok Eeeh, vabbè Eeeh, vabbè Porca la miseriaccia, boia Perché lui Salta Eeeh Vai prendi questo così Eeeh, hai le sue pallotte le ce beccano però Cazzarola Ah, cazzarola ci ha preso Eeeh, vabbè Perché poi lui manco si abbassa, cazzarola Cazzarola Ci mancava, eh Non pochissimo però Eeeh, vabbè No, era andata meglio prima Cazzarola Vabbè un po' se riesco a farlo fuori Il suo bastardo Eeeh, che caspita No, porca la miseriaccia, boia Vuol dire appunto che le meccaniche Sono moderne Vediamo un po', vediamo un po' Se gliela facciamo Eh no, e dai Vai così Siii Siii Sì Siii Vai così Troppo ha guadagnato Major Anzi Major Major bene così ok menu principale bene così allora ragazzi per quanto riguarda questo episodio let's play di questo di questo videogames è veramente incredibile quanto riguarda questo episodio di retro game per il momento insomma bene così ovviamente termina qui spero che vi sia piaciuto il video lasciarmi più like possibili ovviamente commentate condividete con i vostri amici ovviamente seguite i vari social come sempre se pagina facebook twitter instagram canale telegram e vi invito a iscrivervi al mio canale attivare la campagna per venire aggiornati e infine vi ricordo anche il mio blog su wordpress se riusciamo a tornare nella schermata principale ma non credo e va bene vi invito a seguire il mio blog dove scrive prettamente news e qualche volta delle recensioni riesco a portare a te a me sul canale e allora dal vostro giappogame per il momento è tutto matane e ai prossimi episodi e soprattutto al prossimo mese quanto riguarda il retro gaming e ai prossimo mese e ai prossimo mese a te